Buon lunedì, eccomi pronta per darvi qualche anticipazione sul giornale che trovate oggi in edicola che si apre naturalmente raccontandovi la domenica delle primarie del PD che hanno visto la vittoria schiacciante di Elish Line in tutta Italia con un dato che arriva dalla Puglia invece molto caratterizzante su due aspetti l'aspetto dell'affluenza che è stata veramente molto alta e l'aspetto del vincitore perché vincitore per la Puglia invece sarebbe stato Stefano Bonaccini ma leggete all'interno del nostro giornale le cronache politiche che vi raccontano davvero come si è evoluta la giornata di ieri andando invece provincia per provincia a darvi qualche raguaglio sulle aperture cominciamo da Bari, i razzisti di Brescia offendono Bari e i baresi in particolare un giornalista alla sua truppo in trasferta gli chiedono siete di Bari? Siete italiani? Leggete andiamo nella BAT, Bisceglie, Rivoluzione Sport, 10 milioni di interventi per riqualificare gli impianti sportivi e poi andiamo a Foggia, Ospedale di Cerignola, Ristorazione Antimafia, il sindaco si appella a chi opera nel settore e poi Lecce, Pediatria del Fazzi, senza medici e senza infermieri e emergenza Brindisi, Comune come Equitalia, mannaia su chi non paga il lavoro invece in primo piano a Taranto, tre mesi senza stipendio, domani sarà protesta per i 90 dipendenti di Chima Ambiente ed infine Basilicata, continua la nostra inchiesta, la mensa è abusiva, cucina senza licenza leggerete perché e i dettagli di quanto avviene a Matera noi così ci salutiamo, ma naturalmente per essere aggiornati sulle notizie di Puglia e Basilicata vi ricordo che il nostro sito è sempre collegato e noi attraverso il nostro sito e i canali social possiamo continuare ad essere collegati ci ritroviamo invece per le anticipazioni sui numeri del giornale in edicola domani, sempre alla stessa ora, sempre qui grazie e buona giornata